ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco acido tranex amico accord accord e altcare italia srl ultimo aggiornamento 7 settembre 2021 cosa acido tranex amico accord confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere acido tranex amico accorda durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cosa acido tranex amico accord acido tranex amico accorda un farmaco a base del principio attivo acido tranex amico appartenente alla categoria degli antiemorragici antifibrinolitici e nello specifico aminoacidi e commercializzato in italia dall'azienda accord e altcare italia srl acido tranex amico accorda essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione titolare accord e altcare sl concessionario accord e altcare italia srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo acido tranex amico gruppo terapeutico antiemorragici antifibrinolitici forma farmaceutica soluzione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.cdfa.it assumere acido tranex amico accorda durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere acido tranex amico accorda durante la gravidanza e l'allattamento vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.cdfa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.cdfa.it fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione pià aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato